Il prigioniero preso stanotte è un corriere per l'imam Jazeed Khalil. Sembra si tratti di attaccare un obiettivo americano nel Regno Unito. Un attacco biologico. Chi conduce l'interrogatorio? Alice Rasin. Abbiamo in custodia altri due membri di questa moschea. Qual è l'obiettivo? Dovevo solo dare un messaggio! È importante? La mia vita privata non è una linea sicura, signore. Ci serve per un'emergenza a Londra. Me ne sto già occupando. Cosa? Non abbiamo informato la sede di Londra. Abbiamo un infiltrato. Che succede a Londra? Che coinvolge la CIA e un attacco terroristico? L'M5 sta impiegando ogni sua risorsa. Forse ho fornito informazioni alla persona sbagliata. Deve essere fermato. Ci servi di nuovo in prima linea. Il tuo status? In pericolo. Mi danno la caccia. Penso di essere il tuo unico amico. Il nostro prigioniero è sparito dalla circolazione. E io intendo stamarlo. I virus globali sono la minaccia più grande per l'umanità. Sono bombe pronte a esplodere. Come conne se sarebbe. Perfetto. Come conne la ispla. Grazie a tutti